Alla fine era un campo difficile, quindi lo sapevamo, c'è stata la sosta nel mezzo, non era sicuramente facile, forse non abbiamo giocato sicuramente una delle nostre migliori partite, ma alla fine abbiamo vinto, abbiamo dato dimostrazione che comunque siamo una squadra compatta. Sì, è normale, il Lecce sapevamo che ha due attaccati molto veloci, temibili, ci siamo preparati molto bene, però per adesso stiamo difendendo bene tutta la squadra che comunque corre, ci aiutano anche davanti, per adesso direi che le cose stanno andando più che bene, ma dobbiamo continuare così.